Bene bene bene, ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, ciao ragazzi, mercati ancora rossi, la settimana scorsa ha continuato una fase discendente di bitcoin come ci aspettavamo dal video classico di aggiornamento del lunedì, questa settimana sarebbe quella di chiusura del ciclo mensile di bitcoin che stiamo aspettando per giocarci l'ultima grande possibilità, l'ultima gioco della fortuna, testa sale, croce scende, indovinate che è uscito? Va bene scherzi a parte, allora andiamo a vedere tutti i grafici che dobbiamo vedere oggi, abbiamo rivoluzionato totalmente il workspace lavorativo dove andiamo ad fare le analisi, ce n'è uno nuovo dove analizziamo la situazione macro come abbiamo fatto nell'ultima live, ragazzi chi non ha visto l'ultima live sulla questione macro di bitcoin si è perso il video più importante degli ultimi tre mesi, dei prossimi tre mesi anzi, quindi andatelo a vedere perché è fondamentale avere quelle idee generali altrimenti non si va più, riusciamo a capirci. Oggi andiamo a rivedere tutti quei grafici che li aggiorniamo e vediamo anche dove sono le cripto che abbiamo visto la scorsa settimana che seguiremo per tutto il mese di gennaio, due erano dentro, link ed osmo, vi aggiorno già che su osmo sono uscito, su link ancora no, su osmo sono uscito per una particolarità che insomma magari se resta tempo la spieghiamo in questo video e le altre invece non sono mai entrate ma vi faccio vedere dove sono dei punti d'ingresso se questa settimana BTC conferma la chiusura del ciclo mensile. Quindi abbiamo un sacco di cose da vedere, vi faccio vedere subito quello che è la schermata, prima di andare avanti ragazzi però come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale ma soprattutto lasciatemi i pollicioni perché siamo insieme, siamo una squadra, siamo una community ed è fondamentale ci aiutiamo a vicenda, io cerco di dare sempre il massimo ma voi con i pollicioni mi aiutate con l'algoritmo di YouTube. Va bene, andiamo su a vedere quella che è la situazione ciclica di Bitcoin, poi andiamo a vedere il nostro super nuovo Europe Space con tutte quelle che sono le indicazioni macro del mercato, quindi guardiamo in generale anche TH, la questione legata alle coin della DeFi e poi anche il Nasdaq che è proprio quello che sta dando seri problemi ragazzi, come vi dicevo nell'ultima video analisi, allora questa situazione ciclica con i cicli mensili aggiornati dopo il macello che è successo dalla famosissimo ormai 16 novembre che ha innescato questa candela pessima che ha innescato tutta questa spirale che vedete quanto era complicato quella giornata lì dove ho dovuto fare il video di aggiornamento urgentissimo ragazzi perché in questa fase ci aspettavamo l'arrivo del nuovo massimo, una sola giornata ha cambiato la situazione dell'intero mercato delle criptovalute addirittura per due mesi e ancora non sappiamo se il mercato riuscirà a riprendere questa cosa, pensate quanto è importante questo tipo di logica, qualcuno dirà va bene è una questione di analisi tecnica, l'analisi tecnica in questo caso ha rispecchiato quella che era un mood generale, quindi noi vediamo sui prezzi quello che è una situazione di mood generale, se il mood fosse stato positivo non avremmo mai visto un break di quel tipo, per questo è utile guardare i prezzi perché al di là della fanfara dei vari cianci che ci sono in giro perché ci sono opinioni contrastanti dappertutto invece i prezzi non mentono mai a prescindere ragazzi, ovviamente seguendoli non anticiperemo mai il mercato ma chi riesce ad anticipare il mercato sono i maghi, i chiaroveggenti con la bacchetta di Harry Potter e ovviamente gli insider e noi non siamo insider ragazzi quindi ok non controlliamo l'intero mercato, va bene allora detto questo la questione legata al ciclo mensile, secondo me il ciclo mensile di bitcoin non è iniziato il 4 di dicembre ma il 17 circa insieme alle altre criptovalute, ci sono anche altre cripto che hanno fatto questa struttura, io propendo per questa view vanno bene entrambe, va bene anche questa view ma lasciato di sabato pronunciata così non mi piace e quindi io non la considero ragazzi non mi ritornano i conti ma è la stessa cosa perché sia che si è iniziato il 4 sia che si è iniziato il 17 in questa zona temporale stiamo in fase di attesa del ciclo mensile di bitcoin, queste sono le giornate, questi swing a ribasso sono pericolosissimi ve lo dico già in maniera molto chiara perché BTC non riesce in nessun modo a riprendersi da questa ondata di ribasso è il più grande ciclo ribassista come durata dall'ultimo crollo, questo però è stato un crollo veloce ragazzi è durato molto poco e soprattutto è stato velocissimo perché da questi prezzi qui quando proprio è iniziata la fase del crollo BTC ha raggiunto il suo vero minimo in 6 giorni, se invece iniziamo a ragionare con il massimo storico dal massimo in 34 giorni con la shadow ha raggiunto il minimo, in questo caso la situazione è radicalmente diversa perché noi siamo in questa zona a 60 giorni di ciclo ribassista, sono tanti ragazzi e il tempo significa anche tanto perché scendere in maniera consistente, in maniera veloce può essere un fake, scendere in maniera importante con tanto tempo è una distribuzione che è un altro tipo di logica e ci avvicina sempre di più al rischio bear market che poi è quello veramente che siamo lì agli sgoccioli per vedere se effettivamente va o non va cioè il prossimo ciclo mensile ed eventualmente proprio the last, the last, quello di febbraio darà le risposte ma no, la questione è estremamente rischiosa sui mercati, in particolar modo questo livello che vedete sui supporti che oggi stesso Bitcoin sta tornando a testare, io ero long fino a poco tempo fa, ero entrato nel weekend ho chiuso in una leggerissimo profitto in break even diciamo qualche dollaro, niente di che perché avevo tentato un ingresso in dip per un eventuale rimbalzo, dovesse partire, ho detto poi lunedì il mercato in realtà questo minimo non è bastato e il minimo ha 40.586 per, vediamo se appunto adesso qui sono passati 1, 2, 3 giorni se aggiorna questo minimo mi attendo più o meno una chiusura intorno al 12, ragazzi oggi è 10 quindi mancherebbero un paio di giorni, ma qual è la problematica? se aggiorna questo minimo fa un flash crash, questo è il mio dubbio perché questo minimo adesso lo vediamo sugli altri grafici è estremamente pericoloso da aggiornare ragazzi perché sotto i 40.000 bitcoin, fan flash crash, fan flash crash è il mio prossimo livello di supporto è lontanuccio, intorno ai 38, 37.5 questo è il livello di supporto successivo ma arrivando così in basso in un ciclo del genere ragazzi ho grandissimi dubbi che bitcoin riesca a riprovare a fare nuovi massimi per questo anno, sono sincero però il trend is my friend quindi io lo seguirò a prescindere anche se non ci credo quindi se dovesse invertire il trend su tutti i miei trading system è perché ho ancora posizioni hold da chiudere, sono al 60% per l'hold e quindi ancora qualcosa la devo chiudere ragazzi e attenderò eventualmente il rimbalzo e ci risalgo sopra però 38, 37 è un prezzo molto basso per una seconda parte di un semestrale dovrebbe proprio accadere una cosa miracolosa diciamola così allora questi sono i livelli ciclici, ci aspettiamo questa settimana la chiusura di questo ciclo mensile ed un prossimo rimbalzo il prossimo rimbalzo dovremmo capire se ha la forza di dare nuova limpa e rinvertire questo benetto trend che vi faccio vedere tra le altre cose è stato un trend proprio lineare e ribassista perché bitcoin dopo aver breccato il trend, aver invertito questo trend con la giornata del 16 di novembre ha fatto sempre 3, più o meno 4 candele al rimbalzo e poi boom nuovo minimo, 3 candele, boom nuovo minimo 3 candele, boom nuovo minimo poi questa congestione perché qui aveva scrollato di dosso qui la ripartenza secondo me del nuovo ciclo mensile e poi la chiusura inesorabile con il break e il fatto che questo mensile sia girato a ribasso nella scorsa giornata quindi qualche settimana fa il giorno della vigilia dell'epifania questa è la situazione il livello qui sotto se verrà 40.000 circa ragazzi tenetelo a mente se ci chiude sotto nella giornata quindi fa un daily sotto il punto di arrivo teorico sarebbe qui intorno a questa zona quindi è un po' basso che spero non lo faccia spero reggano i 40.500 e vediamo di trovare nuove strade, nuova limpa andiamo a vedere invece tutto quello che è la situazione sui altri grafici che sono molto rilevanti perché vediamo Nasdaq che sta breccando purtroppo il suo supporto principale per la prima volta da due anni lo vediamo oggi ed è quello che sta portando secondo me questa grande debolezza sui mercati perché Nasdaq rispetta la questione della Federal Reserve di rialzo dei tassi sembrerebbe che la Fed voglia essere più incisiva di quello addirittura che si ci aspettava anche se i dati del mercato del lavoro non sono buoni la scorsa settimana sono usciti e non sono stati buoni quindi questo solitamente ferma un po' il rialzo dei tassi secondo me sono un po' in bilico le cose ma il mercato sta dicendo porto a casa rendimenti assurdi che ho avuto negli ultimi anni e quindi anche Nasdaq sta andando giù lo faccio vedere subito questo è un indice che stiamo utilizzando ho deciso di utilizzarlo per questi mesi come indicatore dell'intero sistema economico e di quella che è la questione economica dalla questione pandemia non scendeva sotto la media mobile a 26 settimane perché qui siamo sulla time frame delle settimane un break che sta per avvenire questa settimana se dovesse essere confermato oggi è solo lunedì ragazzi e per questo ancora abbiamo delle possibilità ma se il mercato verso mercoledì vedrà che questa candela è al limite sotto questa media è ancora troppo piccola però se scende ragazzi intorno ai 15.000 per esempio aspettatevi anche qui un bel flash crash perché entreranno in giro le macchinette i trading system iperveloci e vanno a chiudere delle posizioni quindi ci sarà un flash crash anche sul Nasdaq entro mercoledì, giovedì se i computer, chiamiamoli così i bot continuano a vedere probabilmente debolezza e se invece riesce a ripristinare questa candela settimanale facendola risalire sopra questo livello di supporto che è fondamentale allora può essere il minimo del semestrale famoso anche sul Nasdaq tutto si gioca proprio questa settimana delicatissima veramente detto così alla Cristian De Sica delicatissimo va bene allora ragazzi scherzi a parte vedete anche qui la struttura di Bitcoin e questi sono alcuni livelli di supporto molto profondi c'è quell'altro che vi dicevo prima qui più in su intorno ai 38 e poi ci sono tutti questi ma qui è bear market ragazzi praticamente all'80% se ci arriva andiamo a vedere Ethereum e poi vi faccio vedere il grafico della DeFi che è fondamentale il grafico della DeFi per la questione legata al mondo cripto a parte perché secondo me quest'anno bisogna ragionare in due modi diversi uscirà un video dove vi spiego il mio punto di vista come va affrontato l'anno 2022 che è un anno diverso per le criptovalute rispetto a tutto quello che abbiamo visto nel passato o in servo una serie di video che sono una figata ragazzi spero vi piacciano e poi andiamo a vedere il cripto del mese che fine stanno facendo di che morte stanno morendo come si dice allora ETH livello proprio stratosferico a 3000 dollari anche qui ragazzi vedete come Bitcoin 40.000 Ethereum 33.000 sotto questo livello è Flash Crash anche qui probabilmente si scende ad arrivare magari intorno a questa zona quindi 2.6 non è bello perché le cripto stanno dimostrando tra l'altro estrema debolezza proprio in questa fase anche contro BTC tant'è vero che la Dominance per la prima volta da 2-3 mesi ha iniziato a dire sono verde quindi la Dominance in Bitcoin ha iniziato a prendere una fase differente ancora in ciclo ribassista ma se dovesse invertire e invertire in un mercato che scende assisteremo a un bear market inesorabile e a quel punto la Dominance andrà a dire prendo un sacco di valore da Ethereum e le top 10-15 ragazzi quindi le top 10-15 delle cripto soffriranno contro Bitcoin in maniera importante ETH soprattutto quindi ETH va tenuto sotto riflettore perché l'unico modo di Bitcoin di far alzare la Dominance è prendere Dominance alle top 15 ragazzi perché le altre hanno lo 0-01% questo è il discorso quindi se se inverte la Dominance in un trend ribassista quindi non perché Bitcoin pompa che arriva nuova liquidità inverte perché crollano le top 15 questo è la questione quindi qui una scommessa da andare a vedere speriamo di no ovviamente comunque ETH ha questa struttura che come vedete è anche lì sul livello il più importante 3000 quindi rotto i 3000 in questa settimana va giù anche ETH c'è poi una questione che volevo farvi vedere proprio la questione legata al ciclo mensile il ciclo dei mensili di ETH potrebbe chiudersi qui ragazzi ma poi questo è un grafico diciamo così vi metto il grafico daily e non la questione legata al settimanale allora sul grafico daily anche qui abbastanza visibile secondo me la questione legata al mensile come vi dicevo che io sto facendo partire intorno alla 14 13 di dicembre molte cripto hanno fatto questo mensile così secondo me e sta finendo male anche questo però siamo agli sgoccioli quindi potrebbe anche essere che fra un paio di giorni questo mensile chiuda appunto con queste fasi finali di ribasso e poi riparte il problema dov'è? che a livello di ciclo semestrale e siccome i precedenti sono stati i precedenti annuali sono stati molto lunghi guardate quest'annuale di più o meno eth dovrebbe essere intorno ai 490 500 giorni quindi o due annuali corti o due semestrali lunghissimi possiamo ipotizzare che fino a 2.30 arrivi ora qual è la questione? che se o fa un'anomalia qui oppure questo prossimo mese che sono appunto più o meno altri 40 giorni quindi un altro ciclo mensile qua lungo è rischioso perché il mercato potrebbe andare a nuovamente fare nuovi minimi oppure una barra di congestione come la precedente questo è il dubbio anche sul mese di febbraio situazione come vedete estremamente scombussolata per i mercati cripto tutt'altro che semplice però vediamo dalla ripartenza di questo ciclo mensile che comunque dovrebbe avvenire entro breve che cosa di che pasta è fatto il mercato andiamo a vedere la questione defi ho pubblicato sul mio twitter questo grafico una settimana fa dove indicavo il reversal pattern settimanale sul mondo della defi questa è la total market cap del defi dentro ci sono una serie di cripto non sono riuscito a ricavare quali comunque sicuramente le top defi cosa significa un'inversione su questo settore del mercato cripto è un'inversione importante perché dopo la questione bitcoin dopo ethereum che sono la questione legata alle chain nei layer 1 2 eccetera la questione mondo defi è sicuramente stato il cavallo che ha galoppato moltissimo negli ultimi periodi se dovete invertire anche quel settore in termini di inversione di trend di breve medio periodo in questo caso allora la questione si mette male diciamo con i famosi def con 1 2 3 4 5 ok quindi andiamo ad avere poi un quadro generale estremamente barcollante e quindi dobbiamo stare particolarmente attenti anche per questo stiamo andando a controllare anche questo tipo di grafico dov'è il punto più importante per fortuna la market cap della defi la controlliamo così questo grafico ha un punto di inversione molto lontano che è 120 miliardi di di capitalizzazione in questo momento siamo a 141 quindi significerebbe fare un meno 15 circa per arrivare a questo livello di supporto meno 15 dell'intero mondo dei fai è importante ma non è una cosa non fattibile ragazzi perché perché insomma basta un crollo del 5-6% di bitcoin e queste crypto vanno giù del 15% con grande facilità è anche vero che questo è un mercato che regge molto di più degli altri vedete come il settore defi ha retto di più sia di eth sia di bitcoin e questo la dice lunga se dovesse invertire perché se questo settore va a invertire poi diventa un problemone andarlo a ripristinare in quanto questo è l'ultimo baluardo di forza del mercato crypto dopo che hanno mollato bitcoin ed eth quindi fortemente attenzionato vi ricordo anche qui la questione legata alle due medie mobili un crash al di sotto come sta tentando questa settimana e sarebbe la prima volta dal ribasso di maggio va bene questo è un mondo volatile ci può stare però ragazzi già la perdita per esempio di questo supporto che in questo momento trattiene il mercato del complessivo della defi a dallo scendere qui sotto e già significherebbe comunque avvicinarsi in questa settimana intorno ai 127 120 miliardi di market cap non sarebbe una bella cosa perché comunque ragazzi sotto questo livello già il primo swing sul ciclo settimanale sarebbe tradotto in un ribasso quindi doppio massimo è minimo inferiore al precedente non di shadow ma di close quindi su questi grafici mi piace molto utilizzare la linea perché ragazzi sono grafici sulla total market cap non di uno strumento quindi le shadow sono poco significative guardate dove siamo quindi sta per invertire la questione se scende qui sotto e ci chiude la settimana pericolosa un segnale di questo tipo allora andiamo a vedere l'ultimo l'ultima questione legata al ovviamente ragazzi questo grafico io lo vado ad aggiornare e poi lo pubblico sul mio twitter chiaramente molti di voi mi hanno fatto una domanda Mauro quali sono le coin da shortare nel 2022 se le questioni si mettono malissimo ragazzi vi faccio un video per questa cosa sappiate che dal mio punto di vista tutte le coin che sono fuori da un'ottica di sostanza e quindi un'ottica value del mercato poi vi parlo di questo concetto soffriranno il più di tutti le più di tutte e nel 2022 perché se dovessimo andare in mercato orso che sembra diciamo probabile visti i grafici come si stanno mettendo allora a quel punto quel tipo di cripto che sono salite in base a molta fomo e a molto poco diciamo aspettativa ma poca sostanza sottostante potrebbero soffrire più di tutti poi sui mercati delle criptovalute ci sono tante tante cose ragazzi abbiamo visto Doge e Shiba che hanno fatto figuratevi quindi sostanza ok però bisogna guardare anche altre cose e allora andiamo a vedere la questione legata alle cripto del mese vediamo come sono in maniera molto veloce perché il video sta venendo lunghissimo allora vi faccio vedere la questione intanto Osmo Osmo ho venduto chiuso la posizione ho comunicato in Academy perché ragazzi perché questo è CoinEx che era l'exchange che vi avevo lasciato in quel video dove vi avevo detto che avevo acquistato Osmo non ci sono movimenti su CoinEx è un exchange che ha Osmo però ha pochi pochi scambi ho comprato anche un'altra cripto adesso su CoinEx che mi serviva per fare una cuna operazione di DeFi ve la faccio vedere in un altro video e cosa è successo in pratica ragazzi che qualcuno si è messo a comprare si è creato un arbitraggio abnorme su CoinEx su Osmo e quindi Osmo valeva 8 dollari per il resto del mondo in DeFi se lo sguappavate eccetera mentre su CoinEx guardate dove era arrivato è arrivato addirittura a 23 dollari di massimo in questa giornata qui ora io intorno a più o meno 14-15 vi dico francamente l'ho chiusa perché andare ho messo una serie di ordini limit perché non si riusciva neanche a vendere perché c'era poco order book e poi me l'ha chiuso durante la notte il giorno dopo mi sono trovato chiuso l'operazione perché perché è che mi tengo una coin che sta quotando il doppio rispetto al suo vero valore fuori dall'exchange era un palese arbitraggio ragazzi quindi al di là della qualità della coin l'ho chiuso per questo difficile ancora fare valutazioni su Osmo resta comunque una coin estremamente forte ma se la riprendo certamente la riprendo solo esclusivamente in un mercato classico quindi nello swap eccola vi faccio vedere appunto la questione legata all'arbitraggio perché in questo momento teoricamente Osmo quota 8 dollari e 36 così ci riporta coin market cap ma se andiamo a vedere appunto su coin ex siccome non è possibile fare il withdrawal di queste coin da coin ex qui loro quotano 11 dollari quindi vedete la questione legata all'arbitraggio è ogni tanto una cosa carina che può capitare va bene ragazzi ok allora poi per quanto riguarda link invece sono ancora dentro perché io sul link ero entrato dal grafico di BTC in pratica cosa ho fatto ho sguoppato dei BTC in link e la cosa è stata molto positiva perché come vedete questo è il trend che mi ha andato a disegnare e in sostanza sui dollari non ho fatto un gran gain mi pare che sono in piccolissimo gain o in pari ma mi sono protetto dal crollo di BTC perché in realtà io avevo Bitcoin sono entrato più o meno in questa zona sulla questione link e è andata così la tengo ancora perché non ha nessuna inversione contro BTC vedete io in questo momento avevo messo dei BTC quindi per me il grafico di riferimento è questo se invece l'avete valutata sulla questione dollaro anche qui però il trend resta al rialzo perché in questo caso ancora massimi e minimi sono crescenti quindi questa cripto resta nel portafoglio tutte le altre non sono mai entrate perché ETH è crollata quindi come da quel video come avevo spiegato in quel video non ha mai segnato un ingresso per quanto riguarda quel tipo di strategie vediamole anche a livello settimanale e non c'è proprio nessun ingresso su ETH al momento che si va a realizzare aspettano comunque la chiusura eventuale del ciclo mensile di Bitcoin per vedere dove arrivano per poi eventualmente piazzare un altro ingresso tutte le altre niente di che ragazzi sono tutte scese quindi nessuno ingresso l'unica cosa che riguarda queste criptovalute sono due che prendo sotto stretta osservazione e vi do delle indicazioni anche SNX che qui poteva entrare è andata in stop io non l'ho usata non l'ho comprata l'ha fatto un mio bot e per questo non sono entrato ce l'aveva un mio bot in pancia ma l'ha chiusa in stop proprio oggi e qui comunque andava in stop questa qui perché ha invertito di nuovo il trend sono le uniche due che mi piacciono ancora sono Sushi e FTM quindi Phantom che insomma lo uso costantemente anche nella DeFi lo trovo veramente molto utile Phantom molto veloce mi piace molto allora qual è la questione se dovessero iniziare a perdere con la chiusura di BTC in maniera consistente potrei anche valutare un buy dei dip intorno a questi prezzi veramente bassi perché perché sarei molto difeso da uno stop loss sotto questi prezzi che non insomma sono un po' accettabili certo ragazzi la percezione di accettabile in queste cripto è dovete capire di che cosa parliamo perché un ingresso qui e lo stop loss avverrebbe in sostanza a un meno 40% quindi parliamo comunque di percentuali enormi quindi mi raccomando quando usate queste cose badate bene alla posizione non andate a mettere su migliaia di dollari va bene andate a mettere su quello che può gestire un 40% di stop loss che è fondamentale ragionare con queste cripto in questo modo sushi stesso identico discorso più debole di di phantom e soprattutto non ha mai invertito infatti su sushi io avevo dei livelli di ingresso al ribasso e non sono mai entrato fermo restando che credo che possa star facendo lo swing ribassista di un nuovo ciclo secondo me è possibile assistere a questa cosa quindi potrei tentare anche su sushi un ingresso proprio in dip se bitcoin mi dà segnale che ha chiuso il mensile magari inverte invece di andare a comprare solo btc magari compro sia btc che sushi che phantom questa è la mia idea per quest'altra settimana poi ci riaggiorniamo ovviamente con il grafico del top 7 crypto da tenere sotto stretto controllo per il per il mese di di gennaio e vedremo come andrà intanto tengo ancora il link ragazzo vi ho spiegato perché l'ho chiusa vediamo se la ricompro magari da un'altra parte e poi decideremo va bene ragazzi fatemi sapere cosa state facendo soprattutto secondo voi quali sono le cripto da shortare in un mercato orso quali sono le cripto da shortare in un mercato orso facciamo sempre video e diciamo quali sono le cripto da tenere ma perché non ragioniamo trend follower perché non ragioniamo a favore di trend quali sono le cripto da shortare per tutto il mercato orso perché ci proteggiamo perché alcune cripto sono quotate in maniera abnorme e sotto c'è niente quindi quelle perdono 60-70% in un mercato orso shortandole a leva ci recuperiamo qualsiasi perdita sull'holding buono di eth magari e di bitcoin fatemi sapere che cosa ne pensate figa anche questa cosa ciao a tutti video lunghissimo